Eccoci di nuovo assieme, seconda parte di Angoli, dopo aver completato il nostro tour all'interno del mercato coperto, ne torniamo a parlare in studio con Paolo Frisoni, assessore alle attività economiche del Comune di Como. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora dicevamo che abbiamo fatto proprio un tour all'interno del mercato coperto che è stato trasformato, migliorato a partire appunto da alcune decorazioni tipo i totem e alcuni supporti come il wifi che possono venire incontro ai consumatori. Sì, diciamo come dice quella canzone famosa, si può fare di più, potremmo fare molto di più, abbiamo però dei limiti di bilancio per cui i problemi della città sono molti chiaramente la struttura è una struttura storica, una struttura che alcuni ritengono magari superata, non è assolutamente vero, ha una valenza sociale, è un grande mercato all'interno del centro di Como, quindi serve anche una popolazione magari di fascia più debole perché più anziani ed ha anche una funzione di tenere anche i prezzi abbastanza più bassi perché lì si trovano della merce anche a prezzi di concorrenza. È vero perché quando eravamo lì abbiamo sentito proprio i pareri delle persone che abbiamo incontrato che stavano facendo la spesa e una cosa che è venuta fuori è proprio questa, la convenienza dei prezzi, a fronte però di una qualità anche molto elevata e questo secondo alcuni dipende anche proprio dal fatto che c'è un rapporto di maggior fiducia tra l'acquirente e il venditore rispetto alla grande distribuzione anonima. Beh lì c'è un rapporto personale, ci sono persone che hanno il loro banco preferito per cui vanno notoriamente a fare la spesa lì, si sentono serviti bene. L'unico problema che io noto è la presenza dei giovani o delle giovane coppie che una volta erano presenti nel mercato tanti anni fa e che adesso si vedono sempre meno, quindi mi chiedo cosa si può fare per avvicinare queste persone al nostro mercato e al loro mercato perché è il mercato di tutta la comunità. E' un problema secondo me che con gli operatori dovremmo affrontare, con gli operatori fra l'altro abbiamo sempre con i loro rappresentanti uno scambio di idee, non dico quotidiano ma comunque sempre molto frequente e ragioneremo in futuro anche sul tipo di gestione da dare a questo mercato. Ecco appunto parliamo anche del futuro, sono diverse gli obiettivi che vi state ponendo, le prospettive, la direzione verso cui andare? Sì, intanto è opportuno magari come dicevamo noi dare una bella imbiancata al mercato nel senso che non è solo quello, va un po' rimesso a posto e dovremmo trovare col tempo i soldi per questa manutenzione diciamo in parte ordinaria ma in parte straordinaria. Poi c'è la gestione proprio del mercato che a mio avviso dovrebbe essere effettuata dalle associazioni, degli operatori che sono lì presenti. Cominciamo a ragionarci ed è già un primo punto di appoggio che abbiamo, il ragionamento si fa per dire ma la gestione perché non la fate direttamente voi? Il comune certo interverrà, troveremo gli strumenti adeguati, ma la gestione fatta dagli operatori secondo me corrisponderebbe molto di più alle loro attese e il comune dovrà verificare che però questa conduzione sia favorevole anche ai consumatori. Ma ci si ragiona. Certo, quindi farete una sorta di appuntamento in concerto proprio per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini che si trovano anche in questo panorama appunto in cui botteghe come c'erano una volta magari in centro storico sono sempre meno, causa crisi e causa aumento invece dei punti di grande distribuzione. Dobbiamo evitare, quando prima mi riferivo ai giovani che si vedono meno, che il mercato abbia la stessa fine di altri negozi. Il mercato invece deve essere vivo, deve continuare a vivere e poi possono anche esserci altri strumenti all'interno. Per esempio è già presente un mercato con il cosiddetto chilometro zero che è gestito da un'associazione che fa capo all'amministrazione provinciale. Un domani non è detto che venga ricondotto tutto nella gestione unitaria del mercato. Cioè sono tutte delle funzioni che vanno sperimentate e portate avanti per dare sempre al comasco, ma soprattutto a chi sta in centro e che magari non ha modo di muoversi con l'auto, ad andare per esempio nei supermercati, di trovare tutto quello che lui serve e a prezzi, come diciamo sempre, abbastanza calmierati. Benissimo Assessore, grazie mille per essere stato con noi stasera, buon lavoro per tutti questi obiettivi. Grazie a voi e a tutti gli spettatori. Allora l'appuntamento con Angoli come sempre torna domani alle 19. Adesso vi lascio a tutte le notizie di ETG Prima Pagina poi a seguire Target a domani. Buona serata. Allora l'appuntamento con Angoli come sempre torna domani alle 19.